Il presidente del Montevarchi Livi, come molti sportivi rosso-blu, avrebbe preferito incontrare il Gavorrano, ospite di riguardo, domenica al Brilli Peri, con il grande ex Rigucci ancora sulla panchina dei maremani. Al timore dei grossetani, invece, è tornato dal 9 dicembre Marco Cacitti, allenatore che a sua volta rappresenta un punto di riferimento della storia recente del club rosso-azzurro. E con la guida del terzo trainer dall'inizio della stagione, il Gavorrano ha vinto tre gare su quattro, cedendo le armi di misura solo a Viareggio. Si è anche rinforzato, specie in attacco, con l'arrivo di Nicola Lamioni ed è destinato a risalire la china uscendo dal limbo di metà classifica. Non sarà un incontro facile, allora, quello che attende il team guidato da Venturi, nonostante le tre vittorie consecutive, il quarto posto, l'impresa dell'Ipefania, Bagni di Lucca contro il Giviborgo. Qualcuno, insomma, potrebbe far notare che neppure per gli ospiti la trasferta valdarnese si preannuncia agevole. Alla vigilia di una partita che per la qualità degli organici promette spettacolo e gran pubblico sugli spalti, il tecnico Montevarchino non lamenta particolari problemi di disponibilità. Rosa al completo, quindi, sebbene non si profilino all'orizzonte, troppe varianti di schieramento rispetto al blitz in Lucchesia. Tra i pali, se non sorgeranno necessità legate all'obbligo delle quote, sarà confermato Pellegrini al pari dei 2,99 migliorini a sci in difesa. Tognarelli e Salvatori formeranno la coppia centrale di retroguardia, centrocampo giostreranno Capitan Mannella, Matucci e Donatini, mentre Masini avrà il compito di agire dietro le punte su sì e regoli, quest'ultimo voglioso di riscattare gli errori del turno precedente. In corso d'opera le soluzioni alternative saranno Lischi, Biaggi, Diarrasuba e Adami.